Ivani Leach si metteva in ascolto, respingeva anche il solo pensiero di lei, ma lei continuava imperterrita, arrivava e gli si metteva davanti a guardarlo ed egli si irrigidiva. Il fuoco si spegneva nei suoi occhi e ricominciava a chiedersi, possibile che sia solo lei la verità? Queste sono le parole di Ivani Leach, appunto la morte di Ivani Leach è un romanzo di Tolstoi e narra appunto della vita e della morte di Ivani Leach e ovviamente si concentra soprattutto sulla morte di quest'uomo. La morte di Ivani Leach ci viene presentata a partire dal suo funerale, un funerale davvero freddo. Le persone che potremmo definire gli amici di Ivani Leach non si preoccupano della sua morte, si preoccupano delle diciamo superficiali maniere per non dissacrare questo evento, stare attenti a come comportarsi a questo evento, oppure si consolano del fatto che questa sorte sia toccata a Ivan e non a loro. Ma non c'è niente di compassionevole o di lontanamente amorevole nei pensieri e negli atti di questi uomini. Ivani Leach ci viene presentato freddamente al suo funerale, il suo corpo morto, scavato, freddo, circondato da queste persone altrettanto fredde, proprio perché Tolstoi non ci vuole dare la dimensione, non ci vuole far affezionare subito al personaggio di Ivani Leach, perché ci vuole proprio far percepire come Ivani Leach era considerato dalle persone intorno a lui. Dopo il funerale Tolstoi parla della vita di questo Ivani Leach e la vita viene descritta come un viaggio verso il raggiungimento di un ideale. L'ideale più alto per Ivani Leach, la meta più alta della sua vita è una vita decorosa. Tolstoi insiste in maniera quasi ossessiva su questa parola, prelimini, adesso la dirò in maniera ovviamente terribile, però il significato è appunto decoroso, la sua vita deve essere decorosa. Riesce poi a sposarsi, avere figli, condurre una vita che gli permetta di fare carriera, ma la famiglia per lui è solo una cornice della sua vita decorosa, è una sorta di accessorio e la famiglia intorno a lui in qualche modo percepisce questa realtà allo stesso modo. La stessa moglie, Fedorovnia, non sembra avere in realtà un vero sentimento nei confronti di quest'uomo. Un giorno Ivani Leach si ammala di un malore che viene narrato da Tolstoi in maniera molto puntigliosa, cercando di farci sentire il dolore di Ivan. Vuole proprio restituire la sintomatologia di quest'uomo nel nostro corpo e il lettore finisce quasi per somatizzare il dolore di Ivan. Non ci viene descritta in maniera, diciamo, medico-scientifico la sua malattia, che per un lettore sarebbero solo appunto diagnosi, parole, ma ci vengono descritti proprio i sentimenti e le sensazioni fisiche che Ivan prova nel momento in cui questa malattia lo coglie. Questa malattia lo logora e soprattutto gli permette di avere una visione distaccata rispetto alla sua vita. La sua precarietà fisica non gli permette più di idealizzare la vita decorosa, perché ovviamente la sua vita decorosa viene meno, non riesce più a lavorare, non riesce più a partecipare alle importantissime per lui partite con gli amici a carte. In queste situazioni viene appunto colto da questi suoi terribili mali. Ivan Iric inizia a fare un bilancio della sua vita. Il bilancio della sua vita è veramente qualcosa di straziante per il lettore. Sentire le parole di un uomo veramente nudo di fronte alla morte, perché nella frase che ho letto prima, quel lei, è ovviamente riferito alla morte che in molte pagine del romanzo viene continuamente citata all'interno degli atti più semplici e quotidiani di Ivan per far capire come si stia piano piano insinuando questa lei, la morte, in maniera proprio subdola nella vita di Ivan. Ivan in determinati momenti sembra non sentirla, ma poi arriva in maniera proprio inesorabile e assolutamente indiscutibile. Ivan inizia anche a percepire quello che prima era semplicemente un'insofferenza nei confronti della moglie, proprio come effettivamente un forte sentimento di odio, tanto nei confronti della moglie quanto nei confronti della figlia. Questi odi finiranno poi alla fine, poco prima della sua morte, proprio perché Ivan si ritrova un uomo nudo di fronte alla morte. Sembra avere quasi dei deliranti colloqui con lei. Parla anche con Dio, si rivolge a Dio. Piangeva per la propria impotenza, per la propria terribile solitudine, per la crudeltà degli uomini, per la crudeltà di Dio, per l'assenza di Dio. Perché hai fatto tutto questo? Perché mi hai condotto qui? Per quale motivo? Perché mi torturi così orrendamente? Questi sono dei momenti che sembrano quasi dei deliri di Ivan, ma in fondo Ivan non è mai stato così onesto in tutta la sua vita. La sua vita è stata tutta una serie di artifici, una vita senza sentimenti e adesso il sentimento in maniera terribile per la prima volta entra nella vita di Ivan. Ci sarà un personaggio molto importante, Grasim, una specie di, diciamo, di angelo custode quasi per Ivan, che lo porterà a una visione della morte, di necessaria accettazione della morte. Grasim gli chiede, ma in fondo, perché hai paura della morte? Sicuramente questo personaggio aiuterà moltissimo Ivan. Non so se questa poi è un'interpretazione giusta o sbagliata, però ovviamente la figura di Grasim sembra a volte così rarefatta da poter essere assimilata a una sorta di angelo. È una figura che in qualche modo stona all'interno dei personaggi precedentemente narrati che sembrano tutti uguali, tutti mossi dagli stessi interessi materiali e appunto di decoro, ma Grasim è una persona molto profonda, una persona molto semplice ma molto profonda, che appunto aiuta e fa da mediatore in questo colloquio tra Ivan e la morte. Io ho apprezzato moltissimo questo romanzo, l'ho trovato molto commovente. Non avevo mai letto le confessioni così oneste e pure di un uomo di fronte alla morte, che addirittura la invoca, ma non in maniera titanica o di scontro, ma di frustrazione di fronte a un progetto che Ivan non comprende. Un uomo che fa un bilancio della sua vita e si rende conto della pochezza della sua vita. Vorrei terminare appunto con le ultime parole di Ivan Elic. Com'è bello, com'è semplice, pensò. E il dolore? Si domandò. Dov'è andato? Dove sei dolore? Si mise in ascolto. Ah eccolo, non importa, rimani pure. E la morte dov'è? Cercò la sua solita paura della morte, ma non la trovò. Dov'era quella morte? Non aveva alcuna paura, perché non c'era alcuna morte. Al suo posto la luce.